All'anagrafe è registrato come Giuseppe Grotti, ma da tutti in Versilia, e non soltanto in Versilia, in tutto il nostro paese, perché la sua fama è andata ben oltre la regione toscana, è conosciuto come Beppino del Paduletto. Ed è lui l'ospite della nostra collana, il personaggio di oggi. Intanto grazie Beppino per aver accellato il nostro invito. Come ti devo chiamare, Beppe o Beppino? Beppino. Beppino, Beppino del Paduletto. Allora, dove nasci? A Capezzano Pianore. Che di Capezzanotto sei, come si dice? 9-3-37. Sei del 37, quindi hai 75 anni. Li porti ancora molto bene. Li porterei bene, li porterei bene. Ma c'è una gamba. Ce n'hai due di gambe, non una soltanto. Avevo tre, allora. Cominciamo bene questa nostra rubrica. Una l'ha rovinata Lunardini, una l'ha rovinata Radianti. I medici sono sempre responsabili di tutto quello che ci succede, invece molto spesso ci salvano la vita in comune. A me me l'ha salvata Lunardini. Lunardini in agosto, perché mi disse che, ecco, insomma, hai detto che non devo parlarla, non parla. Ma c'erano dei problemi, ti ha risolto i problemi, quindi i medici a volte servono sempre. Senti, allora nasci a Capezzano, scuola a Capezzano anche o no? No, al secco. Al secco. Al secco. La tua famiglia era una famiglia benestante? Facendo un lattai. Eh, ma allora i lattai erano importanti? Eh sì, ma la bicicletta, bravo. Andavano a portare il latte alle famiglie? Andavano a raccoglierlo. Prima andavano a raccogliere? E poi lo portavano. Ci hanno mai portato a raccogliere il latte? Certo. E dove andavi a raccoglierlo? In via della macchia da Mugnai, dove rubai anche un ovo. Perché? Perché lo devo portare, diceva il prete, aiutate le famiglie povere, aiutate le famiglie povere, io trovai una gallina, c'aveva un idio d'ovale, presi uno, non sono d'accordo di una gallina. Lo stanno già tutti qui nel pool, ma ridin tutti, guarda se lo vedi non vedete. E a chi lo portasti questo? Te lo bevesti te o no? Sì, no, 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 lo portai al Vizzone, Luigi, no, Vizzone Vincenzo. Era uno che aveva bisogno, insomma? Aveva bisogno, sì. Perché sapevo che picchiava la moglie perché non c'era pronto il tavolino. Ah, perché non era pronto il tavolino invece di andare a lavorare, a guadagnare, picchiava la moglie. Ma faceva gli zoccoli, lui la faceva a caretti, ecco. Era un uomo che si lavava. Eravano artigiani bravi, no? Eh sì. Tavano le mani d'oro la gente. Sì. Sicché andavi anche te a aiutare a raccolta del latte, eh? Sì. Sì, 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 sì. Certo com'è cambiata la società in cui... Stà buono, stà buono che io guarda. Era un bel periodo però quello lì. Sì, sì. Eri l'unico figlio o c'erano anche dei fratelli? C'era Beppino, Frances e Luciano. Poi venivano le tre Grazie, la Grazia, Maria Grazia, la Carla e la Marta. Tutte sorelle? Tutte sorelle. Famiglione di sei fratelli? Sì, sei. Sei fratelli. La mamma era di Capezzano anche lei e il babbo lo stesso? Sì, 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 sì. No, sì, tutto di Capezzano, tutta roba di Capezzano. A qual eri più affezionato dei tuoi fratelli? Devo dire la verità... A nessuno. E ora non del cuore c'è Francesco, perché è morto. Perché non c'è più. È l'unico che è sparito per ora, che è scomparso, sì. Sì. E con gli altri fratelli c'è sempre buoni rapporti, ancora oggi, oppure... No. Per il Dio soldo io non sono d'accordo. Questa è una frase, ricorditela, che te la dice Beppina che è 75. Quando si punta tutto sui soldi, dici te, finisce tutto. Finisce l'amicizia, finisce il benestà, finisce tutto. Quindi hai avuto un'infanzia bella, in campagna... Sì, sì, ho giocato anche in campagna. E ti dico un'altra cosa, mio padre mi levava tanta soddisfazione. T'era il più piccolo dei figli o no? No, 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 no. Allora mi padre ne diceva a mia madre, dov'è quell'altro? Che sarei stato te. Io. Ehi, è passato il pastore. Ehi, tu dietro le peore. Ehi, tu dietro le peore. Sì, è verità. E mi babbo mi disse alla mia mamma, oh Beppi, ne compramo te o quattro peore al tuo figliolo semino... Quando arriva a mangiare a casa, lo trova al tavolino. Sì. Oh, pie, fa te, dici a mia mamma. Oh, pie, fa te. Io e mio padre mi comprò le pecore. Ah, le pecore davvero? Sì, sì. A Nazareno a Coso. Per andare a Saravezza. E te che ci fai... Erano tante le pecore? Eri nuovo cinque. 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 E le portavi al pascolo? E mi andavo, sì, al pascolo, lì, e stavo intorno a casa. Un giorno, primi giorni, ne mettevo anche le lenzuola a queste pecore. Giuro. Le lenzuola alle pecore? Sì, le lenzuola alle pecore, nel senso che le trattavo bene. Una sera mi babbo va al bar, torna a mezzanotte e dice, Oh, beh, ne lato da mangiare le pecore, sento che belino. E mi madre mi disse, oh, pie, non lo so. Vense il padre in camera e mi disse, ne lato da mangiare le pecore. Sì. Dice, ma belino. E allora, se belino, lasciate le belà. Sciate la belà. E allora lui mi portò il fieno e le pecore smissero di pelare. Avevano fame. Avevano fame, sì, avevano fame. La mattina, appena mi alzo, do la via le pecore. No, si vede mia? No, no, vai tranquillo. Do via le pecore. E entrarono in un vigneto e cominciarono a mangiare quei polloni belli. Dell'uva. Oh, c'è anche l'uva, ma i polloni fanno l'uva. Allora loro, queste pecore, mangiarono una ventina di 22 viti. No, no, vai. Mi padre chiama il mizzi G. Gigi sarebbe stato? Sì, Gigi. E mi dice, oh G, mi scivai da mie e le metto, quello che sta là al tongo. E mi dice, oh mie, a quel ragazzo ne scappate le pecore e ne andate nella vigna. Quanto vino vi deve portare? E allora mi padre, questa gente sapeva che mi padre, mi neviava, mi briscolava, mi disse, se lo picchiate, vuoi due amigiane di vino. Se non lo picchiate, non vuoi nulla. Dopo, io ho saputo questo e mi padre mi faceva la scilicca. Bene bene, non mi picchiate, bene bene, non mi picchiate. E mi padre si fa immaginare se quell'uomo si è arrabbiato con me. Certo. Non ho combinato più di quello che faccio in Francia. Ti picchiava il tuo padre? Perché ero un discolo. Sono stato legato dalle sette la mattina fino alle undici la sera. E che avevi combinato? E avevo frassato un po' la... La casa? No, frassato. Avevo maltrattato un uomo che lavorava da noi. Ah, ecco. Era il 13 di dicembre. No, il 13 di settembre, che è Santa Croce, manda la mia sorella Carla a prendere lucchetti da stoppino. Vado a stoppino, prendo i lucchetti e venzo e mi messero una cateniella... Al piede? Al piede. Dalla gratigola, che è murata la gratigola, al piede. Come ai tempi degli schiavi, insomma, vero? Eh, ai tempi delle schiavi. E quanto tempo... un giorno non te lo dici tenne lì? Dalla mattina alle otto che partì. Hai capito? Alle otto la mattina partì andete a cosa? Andete a Santa Croce e quando tornò la sera mi vede la mia. E te diventaste più cattivo di prima. Eh, che dici? Senti, la scuola, la scuola te l'hai fatta al secco, gli elementari. Chi erano i tuoi insegnanti, te le ricordi? Una è la Palagi, la maestra Palagi, e una è della... La Rachele Palagi è una alla Borghigiani della Croce di Malta a Lido, via Maiore. L'albergo della Croce di Malta, te lo ricordo. C'hai i buoni... Eh, me lo ricordo, sì. C'hai i buoni ricordi dei tuoi insegnanti? Sì. Sì. L'avevo insegnato anche una volta alla Viaggi, la Viaggi Amalia, che ha sposato, fidanzata con... Non lo so. E... Con avvocato di Vareggio. Allora, questa donna... Sciacuò... Bastante, parliamo male. Insomma, se le... Andò in bagno? Andò in bagno e mi dissi, quando la maestra passa di sotto, la Rossi, la maestra Rossi, teni una catinella d'acqua. La ragazza fece. Dopo sospesi tre o quattro... Quindi quando la maestra andò in bagno... No. No. La Malia. Ah, una vostra compagna di scuola, una vostra alunica. La compagna di scuola. Ma quant'anni avevate? Ma abbiamo avuto... 8, 10 anni. Perché io sono ripetente, ripetente, ripetente. Cioè la scuola non era il tuo forte. No, 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 non era... Sì, oddio, stavo... Però fare dispetti e essere nescoli... Oddio! Sicché questa bimbetta andò nel bagno e voi gli tiraste una catenella d'acqua. E quando uscì questa bimba cominciò a piangere. Che successe? No, cominciò a piangere che tu mi soppi chi era stato, da sua madre, dalla... Dalla viaggi, dalla... Dalla maestra, insomma. No, no, dalla mamma della ragazza. Venne da te la mamma della ragazza? No, no, no. De te venne a scusarsi dalla maestra. Insomma, un discolo a tutti gli effetti era sua. Mi dissero una volta, senti, vuoi che ti vada via la semola? Te lo ricordi? Vuoi che ti vada via? La semola nel muso. Ah, cioè l'acne. Sì, le petigine, come le chiamavano. E mi dissero, sì. Dici, mettili le bottigline attaccate alle viti. Se uno piangono le viti, le tagli, vicino al pollone, ci metti la bottiglina e ti fa l'acqua. E dopo ti scelavi il viso. E te lo facesti? Diamine! Che dici? E che è successo? Nevia, briscole, mi fa. Insomma, eri proprio tremendo. Sì, ero tremendo. Senti, le tue maestre, hai detto, erano brave. Qualche aneddoto legato alla maestra, te lo ricordi? No, no, perché mi volevano bene. Guarda, specialmente la Palagi, la maestra Rachele era qualcosa di brava. E la maestra Porghigiani diceva a lei, non mi fate sprecare il mio fiato perché è oro frullato. Ah, è oro frullato. Chi era lei? Una divinità. Senti, quindi, insomma, riuscisti a finirle l'elementario o nemmeno quello finito? Sì, sì. Ma come scrivo parlo? Te lo dio subito io. Perché l'altro giorno sono andato dall'avvocato e io certe parole lunghe, punte, un nemettevole, virgole, neanche. Quindi non c'è capito lui. Ecco, nel mi forte, la scuola, mente. E lui mi diceva, Beppe non te la prende, basta che tu scrivi di pugno tuo, ho fatto un testamento. No. Basta che tu scrivi di pugno tuo. Finite l'elementario e quindi dopo sei andato subito a lavorare allora? O era il periodo delle pecore? No, 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 sono andato dopo a lavorare, 13 anni, 14, 15 anni, 15 anni. Il tuo primo lavoro che ti ricordi qual è stato? Il macellaio. Il macellaio dove? All'Iri di Camaiolo della Gino Cortopassi. Ah, sì? Da Franco. Sapevi, no, Cortopassi? Sì, sì, sì. Felice era lì vicino, dove c'era l'altra sera lì da Pinolo. Ah, ti vai ancora a Pinolo? E vado a Pinolo. Vai a fare la pericena? Sì, no, 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 ce l'ho andato tra 20 anni, ce l'ho andato l'altro giorno perché avevo un ragazzo, una ragazza, marito e moglie, un bimbino, che l'ho fatta venire in casa. Da te? Ospiti da te? No, sì, avevo due stanzette in fondo alla vigna e questo ragazzo, da dormire, non aveva nulla. Ecco. Perché è importante e fondamentale, direi, è questo, di questo uomo. Ha una bontà, un slancio nell'aiutare le persone, moralmente e anche economicamente, perché il fatto che ci ha detto che ha ospitato una giovane coppia con un bambino in una stanza che c'era vuota... Pur che mi tenesse il giardino pulito, perché do una festa io a Padre Pio e alla Madonna. Tu non hai militato, ma erano abitati proprio, ma la rifarò, la rifarò. Sei sempre stato così legato alla religione cattolica, te o no? Sì, sì. La Chiesa è sempre stata importante per te? Sì, è 26 anni che vado, quest'anno è 27 anni che vado a Lourdes. Tutti gli anni? Sì, e credo tanto nella Madonna di Lourdes. Ci porti anche degli amici, il pullman? E poi ne prendo soldi, ma che voglio fare? Un mucchio di candele, di candele, di candele. Quando ne se ne mette una grossa così bella, mi garba, mi garba la bellezza. Hai capito? Questa bellezza che mi garba, che... E ora ho trovato un albergo bello. A Lourdes? A Lourdes. Ma non si deve andare per l'albergo bello, si deve andare per la Madonna e pregare. Ma siccome ci si va per la Madonna e si prega, se poi si sta anche benino... È meglio. È meglio. Mangiare benino e l'albergo è bello. Ecco, io ti ho detto che non sono brosio di stare a fare la reclame di questo albergo, no, no, no. Però vai laggiù perché sei un profondo amatore. Sì, finché vivo vado laggiù. E quando non ce la faccio più ci vado con l'Unitanzi. Sono stato un unitanziano, anche io, eh. Andava a Leoreto. Quello che faceva i treni che andavano a fare... Quindi, Beppino è questo personaggio. Lo ricordiamo, ci ha detto la sua età, 75 anni vissuti bene. Poca scuola perché la scuola non era al suo forte. Ma tanta università della strada che è quella che poi ti ha permesso, giovane, di aprire un ristorante che è stata un po' la fortuna tua perché è quella che ha lanciato il nome di Beppino al Paduletto e tutti ti conoscono per Beppino al Paduletto. Questo ristorante dove i più grandi artisti, non soltanto italiani, Damina a Renato Zero, a Baglioni, a Lucio Dalla, ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo internazionale, hanno mangiato, sono stati, hanno risso, hanno scherzato. Benigni. Benigni e si sono fatti fotografare, hanno partecipato alle feste che Beppino ha organizzato. Sei stato un grande organizzatore di feste. Di carnevale. Parliamo di carnevale. Ora si fa un brevissimo stacco pubblicitario e poi mi racconti qual è il tuo punto di vista sul carnevale. Va bene? L'inallergia. Gli anni tantissimi in cui Beppino dal 68, 67 fino alla fine degli anni 80 ha avuto un ristorante, come dicevo, i più grandi personaggi del mondo dello spettacolo sono passati di lì, Renato Zero, Mina, ma non sono soltanto passati di lì perché andavano a mangiare, perché avevano un rapporto d'amicizia intimo con Beppino. Sono stati ospitati a casa sua, hanno vissuto parte dell'estate. Per esempio, questo disco qui, Bonanno Mina, quest'altro di Renato Zero, una dedica, che c'è scritto Beppino, cresci per tutti tranne che per me, con grande affetto, Renato Zero. Ecco, sono personaggi questi che hai conosciuto. C'è una cartolina là, che è scritto, che quando lui ricorda, la mamma, ricorda la patria, la mamma, la patria e Beppino. Renato Zero ti ha detto questo? Sì, è là. Allora, quando nasce in te l'idea di mettere, dopo aver fatto il macellaio, per quanto tempo hai fatto il macellaio da bimbetto al lido di Camaiore? L'ho fatto... cinque o sei anni, ho aperto per conto mio. Ah, poi dopo hai aperto per conto tuo? Per conto mio, mio padre, povero uomo, anche lì, quadrini, mi ho mangiato avanti, capelli mancavano, perché mi vengono in mente le cose. Ma funzionò la macelleria o no? No. Che apristi da solo? No? No. Dove l'apristi? In fondo alla Vietalica, in casa... Ma verso il mare o verso... Viale Colombo, fondo alla Vietalica, lì c'è il buon uccelli, l'alimentare, e io ho perso lì, per il primo. Poi dopo di lì andai in piena terra a Camaiore. Ecco le tre grazie. Senti, a Camaiore, è un'altra... E poi, chi ti ha detto l'idea di aprire un ristorante? Che ne sapevete di ristorazione? Perché io, di ristorazione, quando lavoravo da Gino Cortopassi, andavo a fare il cameriere al piroscafo, da mia cugina Oriana, che mi voleva un bene di vita, la mia cugina Oriana. Ecco. Allora il piroscafo, lo ricordiamo, era il ristorante dove tutti i camionisti si fermavano. Tutto il mondo. Esatto, era un punto di riferimento importante. Io ho contato anche 40-50 autotreni fermi nel grande piazzale, perché erano tutti a mangiare. Era diventato un punto di ritrovo. Un punto di ritrovo. C'ho anche sposato. Te ti sei sposato? Sono sposato dove? Ah no, lo fece una pensione. Però il matrimonio non andò in porto. Perché io... Avevi altre idee? No, altre idee. Io amavo tanto i genitori, la mamma, il babbo, i fratelli, i sorelli. Poi lei mi combinò, me ne combinò una grossa, no, di corna, no, di nulla. Ma mi combinò che il padre, ecco, lo portarono all'ospedale. E lei non è andata a trovarlo. Allora, mi padre mi ha creato e mi ha tirato alla luce di questo giorno che io ci sto benissimo. Sono neanche invecchiato quanti anni... Ne vedo tanta gente di 75 anni, da tirando il bidone nella spazzatura. Se ci avessi la gamba buona sarei sempre alla cantina a lavorare. Ancora, perché ci hai lavorato per tanto tempo alla cantina. Oh, mio amico Bruno. Allora, ritorniamo al ristorante. Nasce questa idea del ristorante, giusto? Giusto. Lo prendi in gestione? Come funziona la cosa? Vai a lavorarci? No, vado a lavorare da Bruno alla cantina, come cameriere. Lavoravo, anzi, sposo e il piroscopo mi dà poco di soldi. Mi dà 47 mila lire al mese. Quando io andai da Bruno, se la vuoi sapere chiara, andai da Bruno a trovare... Alla cantina? Sì. E mi dice... Vabbè, ma dove lavori? Oh Bruno, dove lavoro? Non lavoro più. Ma come non lavori più? No, non lavoro più. Perché non lavori più? Perché il piroscopo paga poco. Quanto ti dà? Allora vieni da mettere 90 mila lire al mese. Il doppio di quello che guadagnare. Io voglio di sì che vengo. E prendo e vado da Bruno. E ci sono stato sposato, sono stato quattro anni, mi sembra, tre o quattro anni. E poi mi metto la mente di mettere su a me. E trovavo un locale. E trovai Eugenio Alpaduletto. Te lo ricordi? Sì. Ecco, trovai Eugenio Alpaduletto. E Eugenio Alpaduletto è quello che mi ha sollevato la vita anche. In casa mia tutti contenti. Mi sorella, la Carla, si affiancò a me. Insomma, e via Spagnavella. E quanti, quindi cominciassi a dargli una tua impronta a questo locale, no? Sì. Ecco, quindi delle specialità. In cucina chi c'era? C'erano un po' tutti. Quando veniva una coca, quando veniva un cuoco, quando veniva... Ma chi si trovava si metteva in cucina a lavorare. E ebbe successo questo? Sì, voglio a te. Tordelli, perché hanno fatto i tordelli, perché non abbiamo impastato, non ti dico. Ma anche perché eri te che facevi animazione in questo locale, ovviamente, penso, no? Il successo di questo locale era l'animazione. Beppino Vatto. Cioè, raccontaci qualche episodio. No, è che la gente mi voleva... Mi accorgevo che mi voleva bene. Ci davo proprio sotto neanche nel lavoro. Hai capito? Un giorno mi stavo a tavola, su a Paduletto, che sono andato a prendere le sedie in chiesa, 450 persone. A prendere le sedie in chiesa? Sì. Ci avevano di mettere le sedie. Da mangiare se ne faceva sempre tanto. Ma la gente a sedie non c'erano le sedie. Pino a 250, 300. Ce ne mettevano. Hai capito? Le mettevano per le camere. Si montavano le camere. Si mettevano a mangiare di qui, insomma. E la gente era contentissima. Oddio. Erano gli anni. Con la scesta da cenci. Da cenci che ci mettevano cenci. O il pane, quando le sfornino, che le mettono nelle sceste. Di biscotti in capo. A Wanda Osiris. Tiravo biscotti. Lo facevi te? Sì. Ma ti vestivi anche da Wanda Osiris? No. Ti metti questa scesta in capo e andavi a... A tavolino a tirare i biscotti sul tavolino. E scherzavano con te e te scherzavi con la gente. C'è mai stato nessuno che... No, mai. Mai. Un po' come la parolaccia a Roma, insomma. Ecco, sì. Ma io non la conoscevo ancora. Perché siamo alla fine degli anni Sessanta. Inizio degli anni Settanta. Sì. Gli anni Settanta, Settanta... Sì. Settanta, Sì. No. Ah, sì, sì. Settanta, Settanta, Sì. Senti. Noi abbiamo parlato delle grandi feste di Carnevale, soprattutto. Perché tu sei l'amante del Carnevale, vero? Io ho visto delle fotografie lì. Anzi, se mi puoi passare questo album. qui vediamo se riusciamo a farne vedere qualcuna. Perché ho visto delle foto bellissime, per esempio, di feste di Carnevale, Veglioni, organizzate un po' da tutte le parti, perché tutti i posti per far festa per Beppino erano buoni. Allora, vediamo un pochino se me lo fai avere così... Questo c'è. Sergio Baroni. Fammelo vedere, dammelo a me, ci penso io. Vengono a te. Grazie. Eccolo qua. Allora, vediamo queste foto. Qui dove siete? Qui siamo... Alla Caravella. Alla Caravella di... Aspetta, perché qui mi stanno cascando le foto. Ma ne va nulla. Alla Caravella di Cavallini. Sì, ma una sola. Quell'altra era da Beppino al Paduletto. Ah, ecco. Dov'era il fotografo lì, come si chiama? Il fotografo, sì, ho capito, ho capito. E qui vedo Bartolini, vedo... Bartolini e... Questo qui, questo, Bartolini, e poi quell'altro che vedo è Sergio Baroni. Sergio Baroni. Un Sergio Baroni giovane. E là mi dissi, ti devi travestire perché bisogna che tu facci festa a tutta la compagnia. E qui, da che cosa ti travestisti in questa circostanza qui? Da Pompidou. Ah, Messie Pompidou? Messie Pompidou. Ma non Messie Pompidou, questo è Madame de Pompadour. Ecco. Questo non Messie Pompidou, Madame de Pompadour. Qui si è vestita da donna, insomma. Sì, sì, della Fia. Mi costano più quei vestiti lì, che non ti dico, il cappello lì, no, no. Quell'altra spagnola, io ti dico. Spendevi tanto in vestiti? Sì, 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 sì. Cose belle riescano belle, ma solito. Senti, e qui era tutta gente del posto, chi veniva? Eccoti qua ancora. Qui sei? Lì è sempre a massa. Qui sei, la Carmen, chi sei qui? Sono sempre, sì, ma l'altra è la Amanda Odise, la Roberta. Ah, la Roberta, sì, ho capito. La Roberta. Che non ho più visto in giro? Sta male. Eccola qua. Poi, vediamo un pochino, vediamo un'altra, è sempre qui e quello qua. Eri un artista, te dovevi fare l'artista, non... No, ma io volevo che facessi la canzonetta 50 anni fa, e io quando sei rinidisti, sì, ma io non voglio nulla, voglio che... I soldi ce l'avevo nel cassetto. Le spendevi di soldi, sì, eh? L'avevo nel cassetto, soldi. Qui lo vediamo, per esempio, con questa foto, è cascata, con Sergio Baroni e quell'altro Renato Santini. Sì, bravo. Qui si parla di 40 anni fa, 45 anni fa, insomma, i momenti di grande... Quella signora lì è una signora che veniva a comprare il marmo, dovrebbe essere... Il marmo? Il marmo, sì. Ma il marmo... Carrara. Senti, poi arriva il momento del... qui con Luciano Taglioli, ti vedo... E comincia anche a prendermi voglia ai ristoranti. Ecco, allora, il ristorante comincia a diventare famoso, va bene? Allora, com'è che dalla... C'ho Sergio Bernardini che mi voleva bene. Era lui che ti mandava i personaggi? Tutti, tutti. E però con questi personaggi sei riuscito poi a intessere rapporti di grande amicizia, perché ancora oggi, abbiamo detto, molti di questi personaggi vengono a trovarti. Vedi, là c'è Sergio Bernardini. E Sergio Bernardini è stato un impresario incredibile per la versione. Se l'avessi mai avuto ora... Frequentavi la bussola te, sì. Non mi hai pagato una lira. Qui sei con Sergio Indrigo e con Luciano Taglioli, vedo. Sergio Indrigo? Chi è? Sergio Indrigo. Te non te lo ricordi, ma... Ma sono io quello che sono il tuo agliole. Noni, non sei te questo qui con Taglioli, no? Sì. Ma ora... Sì, sei te. Sono io. Davanti c'è Taglioli che è a mangiare e dietro sono io a Camerere. Qui sei con Lucio Dalla. Bravo. Eccolo qua. Sì. Questa foto qui. Sì. L'altro c'è Baroni e c'è Bartolini. Ecco. Allora, però, cerchiamo di spiegare, andando avanti, com'è che riesci a... Quando venivano nel tuo ristorante Renato Zero, Lucio Dalla, Mia Martini, ecco, insomma, come ti comportavi con loro? Che cosa gli inventavi? Che facevi per renderli, per farli galvanizzare? Io so che si finiva alle 5, alle 6 la mattina nel tuo ristorante. Sì, stavano a mangiare, a bere, tranquilli. Non hanno niente di particolare. Feste a non finire? Sì, sì, sì. Qui ti vedo con il maresciallo Colosimo, Davido di Camaiore. E poi hai fatto anche il burlamacco, vedo qua giorno. Hai fatto tante volte anche il burlamacco o no? No, no. Burlamacco o no. Allora, il carnevale. Che cos'è il carnevale per te, Beppino? Io, con Sergio Varoni, mi è costato una scea un vestito. Una scea, si dice noi. Col vestito. Ecco. Perché? Montai sul caro, solo, e i bimbietti sotto che cantavano. Dice, ma è un uomo o una donna? Guardi ci stessi sulle gonnelle. È un uomo o una donna? E io, ma... Perché mi fece fare un vestito, Sergio Varoni. Quando lo vide, io ti dico la verità, assomigli a miei francesi, vedi là. Cioè, in che senso? Faccia grassa. Insomma, prima eri magro e ora non sei più un giovanetto, quindi, insomma, è anche normale che un po' di sciccia, come si dice a Vereggio, arrivi. Senti, quanto è che non senti Renato? L'ho sentito, è venuto a Forte dei Marmi. Come se... T'ha chiamato? Che era a Forte. Vi siete visti? Ti amo, ne fassi... A Pettinassi, al parrucchiere lì vicino al Bar Milano. Lui? Io. Quando mi vive... Ora mi accompagni in farmacia. Lui? Sì. E la farmacia lì di sopra e accompagniamoci. Quanto è che siete legati così? Perché tu l'hai ospitato anche a casa tua, Renato? Sì, parecchio. È da quando io... Renato mi dissero che a Filino Vardardo. C'era una figura che era mezza uomo e mezza donna. E perché si vestiva mezza uomo e mezza donna. E andai a vederlo. Di qui partì a Filino Vardardo. Non lo conoscevo ancora. E un'altra volta l'ho conosciuto quando io sono stato a Tabalta, a Firenze. C'era uno spettacolo lui? No. E andai a mangiare, andai a mangiare lì a... Era in un locale di Firenze. A Firenze io ci andai a mangiare. E venne lui, anche lui. Ma era un po' stravagante come tu. Sempre, sempre è stato stravagante. Sì, ma anche te non scherzi, eh. No, no, no. Io mi immagino che insieme ne avete fatte ricotte di crude. Ecco, no, no. Era stato... Per me è stato un bravo maestro. Non mi mancavano i cento lire. Ma neanche a lui mancavano i cento lire, penso. No, non ne poteva spendire. Ma ne hai bruciati tanti di soldi. Tanti, tanti, tanti. È vero che hai aiutato anche tante persone. Però ne hai spessi anche tanti vestiti, feste. Parla di vestiti e di feste perché io sono ero... Volevo in Imi Smoking. E perché non sei venuto in Imi Smoking? Sei dopo... Volevo in Imi Smoking, no. E che smoking era il tuo? Mio è un smoking comprato dalla mina, lì da Fratelli Fabri. L'ha comprato per te? Lo comprò per me. No, mi disse, valla a comprare che pago io. Io sono venuto a comprare. E chi gli ha detto, passa a mina? No, no. E la mina fece. Ora mi disse, datemi il conto che lo porto alla mina e lei mi fa l'assegno. E stavo... E stava... In via... No, via Ariosti ci sta ora. A Forte de Marvi. A Forte de Marvi. Insomma, era in una villa a Forte de Marvi. Sì. Ma perché ti vuole regalare uno smoking? Perché voleva che tu facessi... C'era una festa? Ma non lo so. Io... Non avevo parlato che non ce l'avevo. Lo smoking mi sarebbe piacerebato. Perché sai... E lui e lei mi disse, non ci pensare, ci penso io. Dai, compralo. Facciamo un brevissimo stacco pubblicitario, ma voglio riparare di questo smoking... E poi... Dei tuoi rapporti soprattutto con questa grande cantante che... Con una grande cantante, una grande donna, ha aiutato la Versilia. Questo lo posso dire io, piano e forte. Perché io quando avevo ristorante, poi ce n'è nata sotto che la dico. Vabbè, allora, ce la dici subito dopo la pubblicità. Linea alla regia. Questa nostra collana dei personaggi si è arricchita oggi di un altro soggetto veramente simpatico. È Beppino del Paduletto che ci sta raccontando la sua vita divertente. Divertire ti sei divertito tanto, sia sincero. Tanto, sì. E ti dico anche la soddisfazione che ho avuto nella vita a non andare a mangiare a Lavanoni. Perché? Perché? Perché vense... E venne il giorno alle quattro e mezzo, voleva mangiare. Dice, buongiorno, buonasera, c'è Beppino? No. A me se tu mi fai le smoffe col locale, il locale è mio. Ecco, lo sono creato. E quella... Dice, ci mangia Sergio Bernardini, si vorrebbe mangiare, ma viene qua la mia amica a mangiare. E la sua amica è che sarebbe stata Mina? La Mina. Così perché? Ma guardi, se la cerca lunga le fesce, proprio così. Beppino è andato via, quello là giù che va via, vedi? Non eri te che gli dicevi così. E io non posso. Sì. Io non posso andare a mangiare a nessuno. Ah, dice, che figura mi ha fatto fare Sergio Bernardini? Di andare là su dove va la sua amica e poi... Se il proprietario non posso mi affermare. E non è più venuta da te poi lei, no? E senti, Mina invece dove l'hai conosciuta te? La Mina l'ho conosciuta tramite il cuoco che è lì. Ah, quella fotografia che abbiamo visto del cuoco all'acqua. Sì. Era il suo cuoco personale. Il suo cuoco. Piano piano lui mi è andato ad entrare a conoscere la Mina. E anche Mina frequentava il tuo locale, eh? Sì, sì. È stato ospite tuo? Sì, sì, sì. A sé no, no. Ospite no. Sempre pagato. No, anche a casa ha partecipato alle tue feste? Sì, sì, sì. No, a casa mia no. No? A casa mia sono allenato zero. Non voleva andare al ristorante, voleva che... Voleva stare in famiglia, insomma. Stare in famiglia. Ecco. Io no, no. La Mina, posso dire, è stata una gran donna. Una grande e sempre sarà. Ecco, mi dicevi, voglio raccontare un'altra cosa prima della pubblicità. Quella della Vannoni. Ah, quella della Vannoni. Quella della Vannoni. La soddisfazione l'ho avuta di un anno da mangiare. C'è mai stato nessuno che è buttato fuori dal tuo locale perché è maleducato? No, 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 no. Sì, una volta. Vedi? Ma vedi un caccio neanche nelle tracce, eh? Questo qui? Questo. E perché? Era ubriaco. Io ti dico qualcosa. L'autorità di Viareggio. Ma non andiamo a cercare perché te qui, perché te là, perché te è sopra, perché te è sotto. No. L'autorità di Viareggio all'epoca, che erano anche tempi d'oro, eh? Certo. Questo del calcio al vetro e la mia ipotesi tagliò lì la gamba, ma non è che... perché volevano passare, erano ubriachi. E io gli ho detto, no, adesso siamo a cena, è mezzanotte e mezzo, si mangia anche noi. E chiusi la porta. E poi chiusi la porta in faccia. E lui, boom, un calcio. Te fu due secondi, arrivarono due secondi, carabinieri. Due minuti da Viareggio. Io gli ho detto, va in passato? Non lo so. O che erano già lì? Io non so. Io non so nulla. So che... E quello che è andato a finire, è andato a finire. Padre di famiglia, c'erano dei casoli. E io, poverino. Mi dice una cosa, sei amante anche degli animali, no? Hai detto prima le pecore. Hai regalato un cane a Marenato Zero, te o no? Marenato Zero, Hitchcock. Hitchcock? Hitchcock e uno a Baglioni. E perché a Baglioni? Perché mi garbavano questi lupetti. Avevo lupi pastore tedesco. Glielo mandai a... A me mi venne la febbre. Mi dice, quando andai a vedere lo spettacolo a Genova, al palazzo, mi mandai. La Telly e un altro ragazzo... La Telly sarebbe stato Stefano Jacopo, quello che canta. E quell'altro era il cuoco mio, Gianni. Hai capito? E mi andai a Genova questo cane, a Baglioni. E lui si è fatto vivo con te? È stato... È tornato a ringraziarmi perché veramente... Dopo io... Mi hanno abitato a Roma, ma... A Roma te! Io so, a Roma! Ecco, è lì. Io sto a Roma? E no, ecco, è dietro la porta. Comunque c'hanno tutti e due i tuoi cani, eh? Uno Iccico, che l'altro come si chiama? Non lo so. Quello di Baglioni non lo so. Quello di... Renato? Renato si chiama Iccico. Quali erano le voci che ti piacevano di più a te, di questi nostri cantanti importanti? Quella di Renato ti piaceva? Lo spettacolo di Zero ti piaceva? Sì, io ce ne cantava uno. Tutte le volte piangevo. Allora, mi ha detto a Roma, l'ultima volta che ha fatto... A Roma ha fatto... Per il suo compleanno? Il suo compleanno. Due anni fa. Ecco. Avebbe un piani, eh? Un piani perché... No, allora ti buttò fuori. Perché lui lo fece per i suoi 60 anni, se non sbaglio, no? Ha fatto 4-5 serate a Villa Borghese a Roma. Bravo. Esatto, sì. E ci portai anche la... La Rosetta. E chi sono questi abitanti, amici tuoi? La Rosetta? No, la cantina. Ah, sì, sì. Gianni. Sì, sì. Il titolare della cantina. Quindi faceste un unico viaggio, tutti a Roma ascoltare... Eh, sì, sì. In prima fila eri, te o no? Eh, oh. Deve essere rimastato. E sicché quando ti ha visto, che ti ha detto, quando ha cominciato a cantare questa canzone, Averpino, un piangio, eh? E un piangio, mi disse. Ma qual è questa canzone qui che ti emoziona? Niente trucco stasera. E perché ti emoziona? Non so perché, mi emoziona tanto. E lui tutte le volte, la canticchia. Te la fa per dispetto, no? Sì, lo so che dice. Senti, invece legate a Mina ci sono dei ricordi particolari. Per esempio, lei era una buona bevitrice, vero Mina o no? No. No? No. Io quando stava a Milano, in via Napoleone. Via Monte Napoleone, sì. Via Monte Napoleone stava. Io andavo a trovare macchine, li portavo, mi vendite, mi vendite, fragole, tutti i pilimizi, che tanto i contadini mi le danno. Le porto alla Mina. Le porto alla Mina, ti davano tutte le cose più buone, no? Ecco. E non me le facevi neanche pagare. Cioè, ma come riuscivi a entrare in questo rapporto di intimità, d'amicizia, con queste persone? Eh sì, non lo so. Sarà stato, no, mi sapeva fare, come si dice. Savoir faire. Savoir faire. Francese. Se no lo dici in mezzo francese, sapeur faire. No, sapeur faire. Ecco, io ho sempre avuto, anche, è venuta lei a, io sono andato a fare il bagnino, non il bagnino, sono andato a lavorare a un bagno, Piemonte, a Porto dei Marmi. Questo quando? Eh, che anno ce n'è andato? Nella ristorazione, ma facevi la ristorazione? Sì, sì, sì. Quindi prendesti la gestione di un ristorante sul mare? Sì. Anche lì un successo che te la via. Un successo, ecco. Allora. Ma io non lo so, che ne racconta la gente? Non ne racconta neanche nulla. Ma ci ridici, scherzi? Sì, ma io anche ora sono andato a vedere la piccola Lurdisse, che è a Chiappo, a Vicenza. Sì. Li tratti bene con i prezzi almeno o no? Sì, sì, 70, 60. Ora è caro Lurdisse, ma l'albergo, certo, peccato non ti ho portato a fare la fotografia. L'albergo di Lurdisse è bello, eh? È davanti al Cancello. È un albergo che non ce n'è nemmeno in Versilia. Te dal terazzino, su un terazzino, tutti i terazzino, tipo, liberti, insomma, non so, me ne attendo io. Era delle paoline, tutti i preti, tutti i preti c'era lì. Beh, certo. Poi l'hanno smontato, col sindaco di Camaiore, il Bertola, mi disse io, prossimo anno si viene qui. Gosti vecchi e gosti si viene qui. E lui mi disse, se ce la fai, ce la faccio. Telefonai a uno, si chiamava Mario. Ora, vado via all'11 febbraio, mi ha mandato 75 cartoline che gli ho detto, ti fai dare l'acconto e dai una cartolina se non ce l'hanno le persone. C'è tanto un pochino tirchi. Guarda che ci hanno trattato bene, eh. Sono rimasto scioccato da quanto ci hanno trattato bene. Io, mi dissi anche, mi piglieranno per brosio, eh, perché non voglio essere brosio io. Ecco, che non ho fatto quanto è Carlo in Francia, devo ripiegarmi sulla Madonna. No, è lei che deve dirmi, veppino, comportiti così e non andare in quella strada che è sbagliata. Frequenti la chiesa? Sì. Ma è la messa? No. La messa no. La perdo perché mi sono raccomandato tanto per il mio fratello, ma poi mi ha, ma da, tutti le, eh. Ce ne ha tante, poi tanti. Ce ne ha tanti che chiedono raccomandazioni alla Madonna. Io dei soldi non l'ho mai chiesto, c'è gente che chiede anche i soldi, eh. Ma io non l'ho mai chiesto una riga, Madonna. Anzi, ne le porto. Perché la candela che ne accendo, le vista, 450, 480, 470, tutti gli anni. È 27 anni che vado, con quest'anno è 27 anni che vado, con la mia amica il Mellina, che mi campi ancora 70, 87 anni, nel Mellina. È una donna che mi voglia troppo bene. E di dove è nel Mellina? È di Camaiore. È di Camaiore la mamma di Franco, di quello del ristorante Franco. È una donna che anche lunedì era mangiata lì. Lunedì. Senti, te ora che fai? Pensionato? Pensionato. E via conci la faccia a camminare. Da quanto tempo questa gamba? Un anno. Un anno e mezzo. Non mi regge, perdo un po' l'economia. Abiti sempre a Capezzano? Abito qui al secco. Al secco abito? Sì, abito qui al secco. Ora, così attivo come sei sempre stato, così trasgressivo come sei sempre stato, ora che fai? Il vecchietto? Il vecchietto. Che organizza viaggi di fede? Sì, di fede. Viaggi di fede. All'Urd o all'Urd Caserecce? All'Urd, domenica eri un accorso, l'altra domenica. Il quindici erimo a Chiappo. La rifaccio perché sono stato bene a mangiare, sono stato bene nel paesino. Hai capito? Paesino lì di Chiappo, a Vicenza. Ecco. E c'è un po'! Insomma, mi mettono il bastone fra le rotte. Ma lascia di stare, lascia di gode. Vivi da solo? No, no. Sì, ora vivo da solo. La morte di mio fratello era vivo da solo. Prima vivevi con tuo fratello? Sì, vivo con mio fratello. Mi fratello aveva la mia sorella. Mi sorella se ne è andata. A 200 metri, no, 50 metri è andata di là. Nel mezzo tagliavo questa, in casa mia c'è un Padre Pio alto così e una Madonna delle parte di sopra. Il Padre Pio a tutti gli anni è a maggio. Ti manca quel periodo di follia? Ci ripensi spesso a quel periodo di follia quando galvanizzavi le serate, le nottate della Versilia, degli anni ruggenti? Sì. Sì. Perché mi manca tanta gente, tanta gente, tanta gente. E ora mi telefoni a chi? Mi telefoni a quelli che... All'Undis. A Montenero. A tutte le madonne. All'Undis. All'Undis mi dico, ma sempre le madonne ci porti? E fagli fare qualcos'altro di diverso, no? Ma che li faccio a fare? E portale a giro, portale, che ne so, a Populonia. Che ne so, mi viene in mente Populonia perché è il primo posto della Maremma che mi è venuto in testa. In Maremma? No, era così, dicevo io, per portarle a giro. Senti, sei sereno, sei tranquillo oggi? Oggi sì. Qual è il rimpianto più grosso che c'hai? Se hai un rimpianto, perché uno potrebbe anche dire, ho fatto tutto quello che volevo fare e non mi manca nulla. Eh, veramente. Sì, sì, c'ho qualcosa che... C'ho qualcosa che... Il tuo matrimonio... A me, senti, il mio matrimonio... Io ti dico una cosa sola. C'è stata la mamma della mia cognata che non è stata brava con me. E c'hai sofferto per questo? Sto soffrendo ancora. Perché non ne parlo più. Non ne parlo più. Cambieresti qualche cosa se tu potessi rifare oggi le cose che hai fatto nella tua vita o no? No, no. Sembra avanti così. E questa allegria, questa gioia di vivere, nonostante la gamma non sia più quella di quando avevi 50 anni, ti è ancora rimasta dentro. Quando vai a giro o accompagni questi anziani in queste... Non ce la faccio camminare. Riesci lo stesso a fare l'animatore e a divertirli. Sul pulma. Tela, Madonna. Che gli dici? Che gli dico? Sempre le stesse racconti. Le peore, il lova. Tutto quello che ho fatto da bamboretto. Sta tranquillo a chi guarda la televisione, se la guardino, ma la guardino. Ma eri un Robin Hood che rubava a ricchi per portare a poveri. A poveri, sì. Rubasti l'uovo per portare a chi non ci aveva da mangiare. E picchiava la moglie perché non c'era mai nulla sul tavolo. Ci pensi spesso a tua madre? Sì. Ora, sai, si va su morti. Si va su morti. Sei sensibile come animo. Sì. Ti commuovi con facilità, mi sembra di vedere. Eh, sì. E allora che ci deve fare? Io ammazzavo ma ammazzo. Se dici così vuol dire che sei infelice, eh? Se no, non diresti una cosa del genere. Sì, perché mi manca il lavoro, mi manca... Vabbè, ma è la quarta età. Mi nipote lì, la luna. O zio dice, vieni qui a lavorare. Ma te avresti ancora voglia di lavorare? Eh sì. Quindi diciamo allora così che con la testa avresti ancora voglia di fare, di essere attivo, di muoverti, di organizzare. È il fisico che non risponde più come una volta. No, 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 ecco. E mi devono capire un po' anche la gente che viene in gita. Non sono più Beppino di una volta. Una volta, ecco, mi è tornata una signora. E quindi quello smoking che hai nell'armadio? Lo devono mettere quando muoio. Ah, lo vuoi quando muori? Muoio e me lo devo mettere, se fosse stretto, lo aprino dietro. E te lo mettono dentro. Vuoi quello smoking lì che ti ha regalato a Mina? Il smoking che mi ha regalato a Mina, quello sì. Quello sì, lo so già anche la mia sorella, scusa. Senti, tra tutti i tuoi amici che abbiamo detto Baglioni, le sorelle Martini, Mina, Renato Zero, Lucio Dalla. Qual è la persona che comunque... Era un po' triste, vedevo Dalla. Non lo vedevo. Non era felice? Non ti dava questa sensazione? No, ecco, Baglioni, Benigni, tutta questa gente, sì, gente allegra, gente gioiale. Io di loro, lo ricordo, loro di me, pure da mangiare ne dava a modo, senza ambrogli, senza ambrogli. Bene. Lo stesso Lamina, diceva, vengo da qui da mangiare da te perché sono sicura che... Mangio come in casa. Ha mai cantato nel tuo locale? No. Senza nessuno? Per te? No, 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 no. E neanche a Renato Zero gli hai mai chiesto se ti canta una canzone? No, mai. Mai? Lui mi canta quella lì, Niente trucco stasera, mai. Ma come fai Niente trucco stasera, scusami? Niente trucco stasera, via le luci. Ecco, non so, ecco, te la dico perché non... E ti emoziona sta canzone. Va bene, io ringrazio molto Beppino, Il suo vero nome è Giuseppe Grotti, animatore di intere stagioni, estive, non soltanto estive, agli anni 60, 70, 80. Facevo anche Miss Italia, la sua paduletta, ballavo. No, 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 questa me la devi raccontare, cioè? Cioè, con l'orchestra, hai visto l'orchestra? Facevamo la sua ristorante, cene col ballo, e pure da mettere il cassetto. Ecco, si dice... In Miss Italia in che senso? Cioè, vestivate la donna? Vestite la donna, vestite bene... Un po' di amici tuoi? No, 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 proprio le donne... Ah. Ecco, eh no. Ma donne che venivano dal compito? Gare di ballo, mi regalavo le coppe da mocciarti, lì, toh! No, poveraccio. No, poveraccio, volevo fare una pisciata per la Madonna. Ma su mia sta qui bagnato ora, eh? Ah, dinnelo. Me ne guarda, là, sta tranquillo, se lo trovo per la strada non muoto, eh? Eh, guasto, mi ha detto. Va bene. E come si apre il locale con bagni guasti, va via. Va bene, io ringrazio molto Beppino per essere stato nostro ospite oggi. Bimbo, ancora tante feste, tanta gioia, e poi il tuo messaggio che al momento opportuno, più tardi possibile, devi indossare lo smoking che ti regalato a Mina. E siccome sei ingrassato, se non ti sta, lo devono aprire di dietro, ma ti devono mettere quello lì per forza. Va bene? Sì, guai, eh. Grazie, io do la linea della regia. Grazie, io do la linea della regia.